Sono felicissima di essere qui oggi a questo evento organizzato da un'associazione di Prato Vecchio Stia, naturalmente pianoforte, è uno spettacolo vedere questo pianoforte posizionato in cima alla pescaia, sull'Arno e tutte queste persone che si godono questo momento di relax e di musica. Note a filo dell'acqua per promuovere il territorio, questo è il messaggio musicale partito dalla pescaia di Prato Vecchio, nel comune di Prato Vecchio Stia, che è ospitato il concerto naturalmente pianoforte, festival musicale che alla quinta edizione ha dovuto fare i conti con la pandemia e che, causa Covid-19, si è inventato questo nuovo format per dare a tutti appuntamento al 2021. Il Consorzio 2 Alto Valdarno ha questo tratto di fiume in manutenzione, quindi si occupa dello sfalcio e della cura del verde di questo tratto, ma qui quello che è bello è che è stato promotore insieme al comune di qualcosa di estremamente virtuoso che la popolazione e la comunità ha recepito in maniera forte. Perché? Perché i cittadini di Prato Vecchio se lo sentono suo e oggi lo vediamo dal vivo. Quindi non posso che ringraziare l'associazione Naturalmente Pianoforte, i pescatori, Civitas e tutti coloro che collaborano ogni giorno con iniziative proprie per rendere questo posto sempre più bello.